Lei dice sto, stiamo, diciamo che... No, lei ha parlato al plurale, ma poi è corretto, parlo giustamente per quello che mi riguarda. Però prendete le decisioni insieme, lei e Sandro Bondi, no? Immagino anche le decisioni della politica. Perché scusate... Il mio compagno, beh, è normale che lei mi chieda questo. Il mio compagno Bondi non va più in televisione. Non è solo che non vuole andare più in televisione, quella è solo la conseguenza di una scelta di uscire dalla politica, che è una scelta diversa da quella di non andare più in televisione, per questo che dico io. Perché non va più in televisione? Per il discorso di uscire, per il fatto che è una conseguenza del fatto di volere finire la sua storia politica. Sente, ecco questo posso permettermi di dirlo, sente una responsabilità comunque sulle sue spalle della sua storia politica per la quale, insomma, crede sia bene non continuare... Avere una visibilità bassa. Visibilità bassa ma poi voler uscire e concludere questa esperienza che è stata importante ma anche deludente sotto certi aspetti.